Tutti ragazzi, minuti in questo video, dopo due sconfitte consecutive contro il Napoli nel campionato in Champions League a Porto, contro il Porto di Concei Sao, la Juventus torna a muovere la classifica e si riporta in questo momento al terzo posto in classifica. Successo importantissimo nel Monday Night che ha concluso la quarta giornata del girone di ritorno. Ci pensa ovviamente lui, ci pensa l'asso portoghese, doppietta per Cristiano Ronaldo, la paeta si deve ancora concludere. Mancano circa due minuti e mezzo alla conclusione ma il video lo iniziamo già perché la paeta è già in ghiaccio, i tre punti sono in ghiaccio. Proprio prima della trasferta che ci vedrà impegnati sabato prossimo nel campo dell'Ellas in una trasferta mai semplice. Ricordiamo lo scorso anno la sconfitta, 2-1 per la formazione di Maurizio Sari. Quindi sarà una trasferta davvero molto molto complicata. Poi lo Spezia in casa nel turno infrasettimanale e la big match prima del ritorno di Champions contro la Lazio all'Allianz Stadium. Quindi due partite in casa, una partita in trasferta per apparecchiare l'appuntamento, l'ottavo di finale di ritorno all'Allianz Stadium contro la formazione lusitana. È stata la serta di Cristiano Ronaldo che ha confezionato il sorpasso in classifica capocannonieri a Romeo Lukaku e si è riportato in testa a quota 18 centri. Diciassettesimo e diciottesimo gol nel giro di 5 minuti, due elevazioni come solo lui sa fare al mondo hanno permesso di mettere in ghiaccio la partita, il Monday Night e anche di effettuare questo sorpasso nei confronti di Atalanta, Lazio e Roma e di riportarci al terzo posto in solitaria. L'arbitro fischia, quindi è terminata ufficialmente, Juventus crotone 3 a 0 dopo il pasticcio, il mega pasticcio confezionato, effettuato all'andata all'uscita dove la Juventus si fermò con un misero 1 a 1. Era l'esorto di Federico Chiesa che riuscì anche a farsi espellere nei primi 90 minuti in maglia bianconera. Ecco che la Juventus questa sera è riuscita ad avere la meglio sulla formazione pitagorica, allenata da Giovanni Stroppa. Crotone che questa sera, purtroppo, raccoglie la quinta sconfitta consecutiva, quindi rimane all'ultimo posto in classifica a quota 12 punti. A meno 2 dal Parma, a meno 3 dal Cagliari, a meno 8 dal quarto ultimo posto che significa salvezza diretta. Quindi la situazione della formazione calabrese è davvero molto molto critica. Però comunque in casa Juventus questi tre punti erano fondamentali per mettere una piccola fiammetta, una piccola speranza sulle probabilità di Scudetto. Adesso ci troviamo a meno 8 dall'Inter, a meno 4 dal Milan, quindi dal secondo posto in classifica. Non possiamo assolutamente più sbagliare. 15 finali accompagneranno la formazione bianconera verso questo termine di campionato. Saranno 15 finali, 15 paese da non sbagliare, aspettando i passi falsi della formazione nera-azzurri. Intanto godiamoci questo Cristiano Ronaldo che è tornato a segnare, ad elevarsi. Sono stati due bellissimi gol, due bellissimi gesti tecnici, uno accompagnato dal cross di Alexandro al 38esimo. Prima c'è stata anche una traversa di Ramsey la Juventus che per i primi 25 minuti ha dormito. Ha dormito, ha fatto un sonno profondo. Poi ci ha pensato ovviamente l'asso portoghese a sbloccare il match sul cross di Alexandro e poi sul cross proprio all'interno della zona recupero di Ramsey che questa sera ritornava a titolare dopo l'infortunio delle ultime settimane. Nel secondo tempo il Tris calato da McKennie, quarto gol stagionale, il centrocampista più prolifico per la formazione bianconera che dopo una sponda di delitto ha contrato di petto, stop di petto e conclusione sotto la porta di Fils Accordas per il 3-0 finale. Da segnalare l'esordio di Fagioli in Serie A, l'esordio in Serie A anche di Di Par dopo l'esordio già effettuato con la formazione bianconera per quanto riguarda il quarto di finale di Coppa Italia che si era giocato nel mese di gennaio. E' stata una partita dominata sotto ogni punto di vista, tra i punti fondamentali perché era importantissimo sorpassare l'Atalanta, sorpassare la Lazio e sorpassare anche la Roma. E ricordiamo che la Juventus ha ancora una parida da recuperare contro il Napoli, valida per la terza giornata del giorno in andata quindi potenzialmente siamo a meno 5 dall'Inte. D'Antonio Conte, io ci credo, io ci credo e come sempre, forza Juve! Grazie per attenzione, lasciate un similaico al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video!